Una foto della squadra riunita al centro del prato della Rechi ed un messaggio forte rivolto a tutto l'ambiente. Parla da leader Pasquale Mazzocchi, uno che non si è mai nascosto e che ora vede anche vicino il rientro in campo. Colmonza sarà convocato e forse potrebbe anche cominciare a ritrovare gradualmente il campo. Siamo una squadra, scritto sui social, è un gruppo forte ma nei momenti difficili si tende sempre a guardare il bicchiere mezzo vuoto, quasi sempre ci si lascia trascinare dalla situazione che circonda ma non deve essere sempre così. Ora è il momento di stare tutti uniti, ora è il momento di stringersi e lottare assieme. Parlo alla squadra, alla società ma soprattutto a Salerno, ora è il momento di fare scudo tutti quanti, è il momento di fare la differenza. Così Mazzocchi sul suo profilo Instagram per suonare la carica in vista della partita più importante fin qui della stagione domenica alla Rechi arriverà il Monza e la serenità avrà a disposizione un solo risultato. Servirà la vittoria per allontanare spettri e fantasmi e ritrovare quella serenità sbarrita da tempo. Troppe cose non sono andate nel verso giusto dentro e fuori, da troppo tempo la serenità naviga a vista e non dà l'idea di compattezza e visione comune. Ora però è il momento di andare oltre, di superare divisioni e frizioni e di andare tutti insieme nella direzione giusta. Paolo Sosa ha già analizzato la gara con la Lazio e pensa a diverse novità per la prossima. In porta bisognerà ancora una volta fare una scelta tra Sepe ed Ochoa. In difesa, Outbron, squalificato, avrà una chance di Omberg. Lovato potrebbe prendere il posto di Pirola mentre Sambia si candida per giocare sulla corsia destra. Con l'incampo Candreva diventerebbe una mezzala di qualità un trequartista e potrebbe suddicare Vilena nel compito di alimentare le punte. Si spera che Dia possa essere disponibile in prima linea dove il senegalese ha colpi e strappi che possono fare la differenza. In mezzo al campo, l'osservato speciale di questi giorni sarà Boinen. Il norvegese deve riaccendere la luce per assicurare idee e gestione del pallone ad una squadra che non ha la gamba per andare sempre a mille e deve necessariamente costruire e riposare alternando i ritmi di gioco ma sempre riuscendo a gestire il possesso. Non sarà facile contro il Monza che Palladino ha saputo schierare con grandi maestri in campo e che eccelle proprio nella fase di gestione della palla. I Brianzoli saranno privi di Marlon, Birindelli e Rovella squalificati come Bron. La storia sarà far tesoro anche di queste assenze per tornare al successo interno che manca dal 22 ottobre quando un aerogol proprio di Mazzocchi piegò lo Spezia. Grazie. 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 Grazie.